musica 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 stiamo ad andare registrazione per Twitch no pericai per Youtube QG mettigliela nell'est partiamo dai manca un'arma a 335 wow neanche una io ne ho 1,2,3,4 5,6,7 8,9 ma non posso giocare con ricognizione secondaria io ne ho 11 a 335 anche se avrei quasi il dubbio di giocarlo all'inizio perchè non so quanto mi posso no inizio con ricognizione guarda domanda domanda adesso zitti che vi uccito no no domanda ma noi prima nel primo raid sapevamo come si sa eh ora è bello ora scuola è il bello ora scuola è il bello del re lo sapevamo piano almeno avevamo me non ci sono i nemici che tristezza semplicemente ma non è sul leviatano raga no non siamo sul leviatano ma mi è atterrato su venere ma ce l'ha già ponuto la porta no no è il leviatano si sta prendendo Gesù Cristo qua ok e qua il problema è questo scuola che non sai minimamente come si fa quello è bello almeno fino a un certo pezzo lo so qua si può andare giù raga volendo ma mi sa che è l'unica via è giù si viene giù andiamo ah Marco ci sta guidando raga l'acca già lo sa l'acca guidaci te raga guarda che questi qua non sono ahahah Marco già l'ha fatto ma ma la vuole a Bungie io sono entrato prima ah tu sei entrato settimana scorsa oh no salto sii salto sii salto sii salto sii salto sii salto sii salto ma cos'è il revolver cazzo ma cancro di school che mi stava fuori a cadere ci siamo eh ma sta piodendo ma è la nebbia di dark soul medu mamma mia che entrata raga fermi fermi Marco fermati oh che è? oh che sono il pavimento oh mio dio guardati dietro scappa dal reattuore avete letto cosa c'è scritto come obiettivo guardati dietro medu è la nebbia di dark soul guarda dietro medu è il boss quindi se smugga osteine oppure raga scappa dal reattuore ecco io mi son fermato non capivo che cacchio bisogna fare l'obbiettivo è scappare dal reattuore esi dal reattuore non scappa vabba escape dice in inglese ma racca che qua quo perchè qua c'è la pedana ci salivi e spawava la seconda prima eccola la però questa si abbassa ok fermi un attimo Adesso non ne spawna Ecco vedi eccola qua Dopo Non spawna nient'altro Qua non c'è nulla Bisogna fare qualcosa Mi sa che ci serve un determinato peso What? Ok scende giù e basta Ognidone di pedana ci sono delle sfere Che si illuminano mi pare Fammi montare sopra una pedana Ok Prova una da andare su qua Sono due accese In due si abbassa Se non jumpi subito Non ce la fai Bisogna fare un giro A turni Uno sale su una L'altro sale su quella dopo Il primo sale su quella ancora dopo No dopo si disattivano Uno che salga sulla prima Non lo so No quelle sono tipo pane e robe del genere Uno che salga sulla prima Sei fermo lì stabi non muoverti No no non due Perché se sali anche te school Che va giù Già school stai sbagliando E no secondo me stabi bisogna attivarle tutte Per far sporare l'altra Ero dimenticato di avere quello sbagliato E' una stronzata raga Bisogna stare sopra un po' e basta E' a timing raga Se rimanete troppo Guarda l'ho buttato fuori dal gioco What? No no GeForce Ma dai mi hai buttato nel desktop Che ho scritto GeForce E' ora disponibile Eh lo so No è brutto quando ti fa quello del driver E' vero Si lo fa sempre Prima la tua voce di nosirida Ma Segui i due stai dicendo semplicemente Bisogna stare io su No non devi rimanerci troppo tempo Appena spawna l'altra Non devi farla diventare rossa raga No no raga Non tutti così insieme Allora Facciamo quello Aspetta raga Allora Eh adesso il problema è che qua non si spino Non vanno buttate giù le piazzaforme raga Ma qua non c'è più niente raga Aspetta aspetta Facciamo andare uno Facciamo andare uno Raga Fermi raga ma è vero Sono sei piastre Scusatemi Sono sei piastre Secondo me il primo deve andare sull'ultima E poi a turni raga Bisogna salire su tutte sei No così non ha senso Sono saliti in due No no infatti Uno per piastre Eh si uno per piastre Deve partire uno Arrivare in fondo Io ero partito Io ero partito raga Raga suicidatevi Uno che parte dica sto alla fine Lì morita non spona più E sono sei Vedi Giù Acqua Oh E' quella roba là però Parto E' bisogno anche vedere la strada Fami vedere una roba Vai te stabi Vai te stabi Arriva all'ultima Va a vedere Ok Arriva all'ultima Vedi se va giù Si fa una quella dopo no Ok vai a quella dopo Fermati non salire No Non fate l'avenire rossa Marco torna indietro Marco torna indietro No ma non diventa rossa Diventa rossa con un determinato peso Due persone Ok ok basta non torna indietro Skull torna Ok Provate così Una persona alla volta sulla piastra Vai Skull Vai Skull Poi vado io Cromage Va ad attivazione raga Vedi Deve esserci sempre il peso su ognuna Ok Devono essere tutte piene Rossa la tua Ok È rossa Medus Jumpa veloce Ok Io sono l'ultimo La mia è l'ultima Dovete essere veloce Moriamo Ok Stai in sospensione in aria Medus Se riesci Perché altrimenti Perché vedi che io ho la rossa La mia va giù Si Ho visto Nemici Dio cane Dove Davanti di me Lazzi i cecchini Ma sono quasi arrivato Però anche dietro Vai vai sono arrivato Sono arrivato Filo di troia Oh no Eh no Sei sceso Doveva arrivare tutti insieme Ma ha buttato via la piastra Aspetta aspetta vediamo Io ci sono Ma ha buttato via la piastra Io sono vivo Io sono vivo Ah ma mi ha dato la pennata al cavolo Ora Ce l'abbiamo fatta Eh ora Nulla mi sa Eh 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 ora Dimmi che non ci venivano tutte le piastre attive No 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 Ci sono questi pannelli Qualcosa Fermi Raga sta sponando qualcosa Le piastre sono risponate Qua sotto Tutte quante Qua sotto Qua sotto Qua sotto È una Fermatevi Come prima Vado io Vado io dopo Vado io No aspettate raga Non ci arriverò mai la coca No 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 Sbagliato Sbagliato G No 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 Sono due vie No 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 Allora io la tengo qua raga Uno c'è un po' là Io sono andato Devi fare sinistra a destra C'è una qua da me Uno che venga verso di me Ah io 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 vado Ok No sopra la mia però bro Vai 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 Ma vai avanti te Come stavamo facendo prima Dai Vabbè wipe Wipe un attimo Wipe un attimo Eh ci siamo Ci siamo Ah no non serve Wipe Wipe rifacciamo Allora lì ce l'è Un'altra più lontana Piastra di a me Eh io Sono due vie Lo dito che sono due vie Raga bisogna Raga Raga fermi un attimo Organizziamoci Eccola qua Eccola qua Non saltiamo come dei caproni Non saltiamo come dei caproni Ok basta La seconda sarà a sinistra La terza la prendo io Quella che si ponerà davanti A mio cugino La prendo io Quella Ok vai Ma non è più facile Che io vado avanti Adesso in poi si Adesso in poi si Non ha senso Vai black Non ha senso Perché adesso uno ti spara Eh no 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 Infatti vado avanti E quello che deve scendere Vado al po' più Ci saranno da voi adesso Vai vai Marco tu vai in quella di school Io vado lì Ok ci sono Ah ci dividiamo così Da me Da me Vai Stabi va avanti Laca vai dietro Ok Mi sa che si spawna solo Cioè Eh ho senso andare solo Da una patata Qui dobbiamo ruotare ora Eh la mia non c'è raga Dovete essere veloci Come dei migliori Aspetta aspetta Vai fuori Vai Perché lenti Eh beh lenti Sì No 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 Non lo spawna Proviamola raga Proviamola siamo vivi noi Spawna una alla volta Stanno cadendo No 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 Ho fatto la calzata Sono spawnati degli sniper Poi ti stanno facendo abbastanza Torco dio Eh non spawnano più Perché non c'è più peso Raga Guarda che da me Non ne spawnano più Non vorrei mai Che sono due vie Solo una è giusta No perché spawnano Chrome Già Bastardo di un oso Aspetta Proviamo ad andare tutti Nella stessa direzione Allora No 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 Perché i tre Devono rimanere Per far andare avanti Le piastre Sì Vai che vado avanti Vedi vedi Appena sale stabi Sale l'altra Sì è un'attivazione Vai adesso vado io Quando viene sull'altra Sì ma io vado avanti Vai 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 Ok Ora girava Marco Morto Ok 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 Raga ora fermi Vediamo come funziona Dopo sto giro Mi sa che Vai Marco avanti Sono io Dietro Ok Ora dovrebbe Toccare a voi Adesso è da noi Ora fermi Vediamo qua Capiamola Ora dovrebbe spawnare da noi Ruotiamo Noi proviamo a ruotare noi Fermi Ok Ok Avanti voi Provate ad avanzare Vedi funziona Ora noi avanti Nonici là Cabal scendi bastardo Fatti vedere bastardo Prima però Avanti Skull Porto il cabal Skull Non gioccarla Troppo lento Ma fa un culo Lo faccio io Tutti 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 Questa qua Ci ha un patto Veloci Eh vedi raga All'inizio Eh sì Ma perché all'inizio All'inizio È veloci Ti dà Alla fine Di corsa raga Raga Non c'è l'haga Non c'è l'haga Non c'è l'haga Dove hai ragionare Un attimo Faglia l'idea Vado io per prima Ok Allora Vado io Questa è una via unica Allora Vediamo adesso Vado io Dopo vado io Sì Poi Marco Ok Adesso ci sono io Poi io Ok Non sono più attive raga Aspetta 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 Qua ce n'è una raga Qua da noi ce n'è una Raga Non tutti Dovano andare qua Qua ce n'è una Guarda E infatti c'era anche un bivio di qua Eh sì Eh sì C'era un bivio di qua Non tutti Bisogna guardarsi intorno raga Bisogna guardarsi intorno Non è sempre il primo Che deve avanzare No non è che il punto Non è sempre Fammi andare a me per prima School L'H che No no Cromage L'H che è l'ultimo Va a sinistra È vero È spawnata da noi Eh ok Ok vado io per prima School Vado io per il secondo Vado io da scusa Vai te Marco Adesso Allora io ora L'H L'ultimo Fai quell'altra Aspetta Non è che bisogna andare Da tre Da una parte E tre Nell'altro Eh no Non c'è l'altro Non c'è l'altro Ok Solo io E basta Se non te ne spawn Ok Ora l'H Allora bevercio Fermati Fermati Che succede Ma non è che deve Dovevo fare qualcosa In sta situa Qualcosa da fare Io negro Perché secondo me Spawnano anche attorno Cioè girano Una a destra E una a sinistra No no Non spawnano La parte centrale No da quella parte centrale Tipo così Ah di là dice Proviamo Eh perché prima ne era Ce n'era una a sinistra Allora proviamo a vedere Andate voi avanti Voglio vedere io No qua non ci sono Vado giù Vado giù Vado giù Vado giù Dopo school Vado A una subito di qua invece Perché prima era sparata di là Nel sto guardando io Voglio vedere quando finisce Cosa succede Ecco Madonna Ecco qua davanti Ce n'è un'altra Ok due No quella c'è sempre quella Ragazzi ma da qua non si arriva Col salto No Troppo Guarda mi sa il pelo L'ho preso male Aspetta A me ci arrivi A me devi saltare Fammi provare una roba Io sono io Marco e Lara Eh perché mi sono bloccato Poi ci siamo addormentati comunque Ne è caduta una Scendi te Stabi Ma Marco muore Ma Marco muore là ora Ottimo Qua dietro Ok Vado io Poi non ne sfonano più Giusto L'H è andato l'H Lo stavamo facendo Non lo stavamo facendo bene Raga Ora qua l'H Eh ma raga ma qua io non ando più Gira 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 Voi venite per di qua Ok io sono qua Avanti Venite per di qua Saltate saltate Due sulla piastra cadono Eh si No Ci arriva forse Ci arrivate Si No Si No con cacciatore impossibile Cacciatore impossibile Io col titano Eh ma vi do il check Vi do il check Fatto Fatto Eh però vi apro il passaggio Vi apriamo il passaggio Mi sa Devo a te che non morite Non vorrei dire ma vi apriamo il passaggio Ok Proviamo questi gamballi qua Ma siamo di qua Ma siamo qua Cromes Morite Ah perfetto Comunque vedi Non lo stavamo facendo bene Allora vedi Eh no Si ma qua è da rifare raga No 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 Si attiva No no si attiva Assolutamente Eh no Dai un attimo Perché pure prima Ci ha messo un zoom Prova ad andare avanti Guarda se va No però Passarli tutti assieme No 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 volevo vedere se andava Invece no No bisogna effettivamente rifarlo raga Raga Provate a farlo in quattro Forse me Scull vedi che noi qua Dopo abbiamo sta zona Dovremmo saltare qua Secondo me Proviamo a vedere Stai qua Scull per arrestarmi Wow Per vedere se riesco a andare Qua De sotto Morirò qua Vai 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 Ok Vizio si allontano Però si può farsi quando me Provediamo Vai L' Thousand Vi provo Anche se era il top Potremmo farlo tranquillamente Anche in 4 Ve vedrò Perché Adesso noi andiamo avanti Ok vediamo A un certo punto spawnano di là però non qua Eh lo so, jumpi dall'altra parte Eh sì ma Devi aprirlo dall'altra parte la strada Vediamo se spawnano o no Aspetta No non ci si arriva Aspetta Qualcos'altro Fammi provare Prova a mettermi velocità aumentata Dai Marco vai avanti Marco vai avanti Eh sì le attivo io Le attivo io Quelle con la corsa Le attivo Le attivo facendo così Fuck No no non ci si arriva No bro niente Sono diventato rossi via Provi provo School di nuovo Oddio QG Oh Mi fa cagare il certo del stato triple Ma in figa No no Hai Forse so cosa fare Forse so cosa fare Movimento velocizzato Proviamo No 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 Guarda quanto salto Ho sbagliato Era l'altro Era l'altro testo Fa doppio salto Provate School con lo smash e testo cosa Eh ma non ce l'ho Facciammi insieme 3, 2, 1 Vai Ma la che è arrivata Porca la troia Ah no Che cazzo di salto è Sono come quelli là del coi Ma la che è arrivata Raga ma la che è arrivata Non so come aveva fatto Ma non è che ci sia qualcosa Ma non è che morendo ha responato di qua Provate Magari è troppo male vicino Ma scusate raga ma non vassero Allora se Probabilmente non lo so Laga come sei arrivato qua Infatti Come sei sputato Io mi sono girato Ho visto l'haga Ma siete sicuri che hanno Saltato dalla piastra E mi sono arrampicato Eh come ho provato a fare io Tipo spider Ma non funziona Ma chi è una scimmia Laga tu usci Chi sei? King Kong E va Visto che è attivo G Cool Probabilmente Uno deve andare a sinistra Ma non ci spavano Con lo smash ci arrivi Con lo smash ci arrivi Eh ma io non ho lo smash Ho i martelli Poi se tornate di qua Ce la facciamo Raga ma com'è Dobbiamo tornare di là? Raga però Cromaggio Cromaggio dobbiamo tornare Non c'è un modo per alzarle Guarda quant'è potenziale Oh cristo Dio cristo Raga tornate indietro Dai una puttata Prendiamo due ore Perché è stato lato Ok Arriviamo Andiamo indietro Andiamo indietro Sperando che non mi rispawni L'altra piastra Ci arrivo No No ci siamo Perfetto Dai Vedete raga Medusa là fuori No ho sbagliato raga Scusate Ok sono qua Sono qua con voi No no Pazzi siete Tornate su Tornate su che morite raga No laca torna su E sono disattivato Ma medu Beh tu Hai visto la differenza di salto Della Gambali Che roba Sì È tanta Guarda 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 Facciamolo insieme 3 2 1 Vai Stai scherzando È tanchissimo Ma dopo il secondo Mamma mia Allucinante È come quelli là Non mettono Il salto Vado io Vado io Marco quarto Io quinto Laca Il suono conferma Il peso teoricamente Non si è virato No Marco No Ma avete sbagliato qualcosa Qua raga Vai Vai Laca dietro Laca dietro C'è l'altra Dovete davi il cambio Qua raga voi Raga No 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 Il fatto è che Vabbè È persa anche questa Io sono vivo Raga Stiamo sbagliando il tempismo Raga Cioè Io ho visto C'erano le piastre Sono andato io Sulla piastra No è andato Marco Stiamo sbagliando Raga Dove stiamo ancora Poi io non raid Stasera ti serve Infatti dai Eh Sabi Sabi Perché hai tutta questa fretta Cromage Sì vabbè Ma guarda dove va Su che è Ma niente Non glielo raccontato Guarda Non giri Chissà dove Che domani mi sarò Abbezzando Dalla padova Vai Marco Posso Te l'ho detto Vado io Laca Tra fuori Sto facendo una roba Non posso Eh E ora Vabbè Ascolta Dirlo prima No Vabbè Ok Marco Vabbè Ho capito Raga Quelle che diventano rosse Sono quelle che cadono Appena spawn alla prossima Facilissimo Sì sì ho capito Vai andate andate Dovete andare veloci Raga Altrimenti Io ci diamo il cambio No 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 Io ho capito 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 Come funziona Raga Sì ma qua Correte Qua c'è arrivata Raga Qua c'è arrivata Andate avanti che ci arriva No c'è degli stronzi Comunque Guarda Siamo qua Di nuovo Abbiamo capito Raga Devi fare una U Si attivano quelle a destra Vedi che si sono attivate Si sono attivate No Tipo Vabbè Forse sei qua Ho capito Dimmi come si sono di là È una stronzata Vabbè Raga 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 Perché non mi avete lasciato la piastra Perché si attivano Si attivano Fai quella curva Poi iniziano ad attivarsi a sinistra E si inizia ad andare a tutto indietro Sono attivate Vai vai sono attivate Vabbè sono pieni di snack Guardate a destra Eh Molti sono attivati Guarda che è successo Guarda che l'ho fatto salto Dove ho aspettare Chrome Oh l'oddio Raga fatti quei cecchini di là Ci fa voleranno da qualche altra parte ancora Guarda i cecchini di là Non ci arrivo Guarda raga Secondo me dobbiamo semplicemente saltare là sopra Sul balconcino Qua sotto da da school No questo c'era già C'era già a school No è vero No no L'ha attivato L'ha attivato Vedo io sulla seconda Questa non c'era Seconda Vado io sulla prima Ok No che lo sniper E due palle però Stai Dopo vado io Eh ci sta Ah là dovrò mi arrivare là Vai Marco Poi vado io Poi l'hack E due palle però tutte ste storie Eh È abbastanza lunghe Ah vabbè ma ci sarà un modo per skipparsi Ma perché sicuro è così alto Tipo C'è vado io vado io Vado io comunque raga Sì se teniamo sempre lo stesso giro magari Ora l'hack casca giù raga Quindi Fa uno 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 due Vado io vado io vado io vado io Vado io vado io I cecchi raga sono Subito subito Giampate subito Veloci 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 Ancora 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 Giampate 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 Diciamo che è cool Cool Che è cool Ho detto vado io Come se ho detto vado io No ho detto vado io Sempre No ho detto io No tu non hai detto niente Ma perché raga ma perché raga Qui dietro alla fine dei conti Jumpano in una piastra Quando vedono quella vuota Jumpano Sono sempre io Ma sempre uno può saltare Siamo io l'hack a quelli a rischio No vado io Vado io Siamo io l'hack a quelli a rischio Siamo io l'hack a quelli a rischio Vai school Eh ma fate Che alla fine Spannano molto più velocemente Sono fatto apposta Eh sì Quindi bisogna essere Voi santi Vai santi Se volete raga Continuiamo a fare Io jumpo in quelle Ci scagliamo È uguale È uguale Possiamo farlo anche noi dietro Voi basta che state No raga Voi jumpate sempre in quella Che avete davanti Mai cambiare Vado io sempre su quella nuova E noi facciamo trenino Andando così Sai che Sei sicuro Tranquillo Tranquillo Ok Cool Marco Stabi Ok Guardate sempre l'altra piastra Ovviamente Stabi Stabi Dovete saltare però Raga Un'ora per saltare Oh Sono molto più veloce adesso Ragazzi Eh Sì Sei lì Marco No Eh buono Raga vai sulla prova Marco vai sulla Però raga Mizz Una piastra Avete a zaccato Oh signora Eh però È anche un ghost of sight Raga dovete saltare Dove c'è il vostro amico Non è difficile Tanto lungo sto step raga Provate Non è difficile raga Saltare sulla piastra Davanti alla vostra Doviamo andare là raga Guardate Dovremmo andare là Eh sì là Eh infatti Però raga se guardate il vostro Allora guardate il vostro compagno E andate dove va Allora Allora Facciamo così Seguiamo Guardate la piastra Davanti a voi raga Non è difficile Io seguo Chrome Vado in quella dove Chrome Ricordatevi la mia piastra Marco segue stabi Stabi segue scuri Io seguo Marco E l'acca segue me Allora adesso sta qua raga Io seguo Scala 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 I cecchini raga Sì falli Madonna I cecchini possono morire I cecchini non ti fanno danno È bloccato Guarda che raga Sono tante sto giro qua di piazza Io seguo Chrome E vanno attivate tutte se volete che dopo quelli la che muoiono riescono a venire E' una stupidaggine da fare raga E' proprio facile Basta salzare dove ho detto il vostro davanti Capito Guardate davanti ed è facile Però non ha senso farti fare questo salto qua Eh l'ho fatto apposta cosa meno non vi incasinate Non importa che li salti sopra l'altro non è un problema No è che perdi tempo Ma no ma comunque non cambia tutto Ma io dovrei andare là in fondo Ma che stupito Eh per quello infatti ti tocca fare un salto allucinante Eh per non farvi confondere Se dopo volete farlo Mezzo in mezzo in mezzo Vabbè stiamo così Stiamo così Vedi perché così invece non tagliamo Io vado lì Ora qui Ora qui Ora qui Io ci sono sono arrivato io Non credo che serva Com'è morto Marco con gli sniper Voglio vedere cosa c'è Eh? No la piastra è caduta Non a scuola della vederti ci dà tipo un ritorno Raga non è difficile No no sto vedendo che c'è Allora collegate un attimo il cervello È un trenino Io non ho sbagliato nulla È uno schifo di trenino Cioè seguite sempre quello davanti a voi E non sbagliate mai Attaccate il cervello vi prego Cioè è più facile delle bandiere sto step Medu io Non ho sbagliato nulla No no mica dico a te che stai sbagliando No madonna se ci arrivavo ridevo Dio Cristo Ma ci arrivi Cromage Basta che vai sul balconcino di lei ci arrivi Ci arrivo anch'io guarda Aspetta Aspetta Guarda Guarda Quasi Di poco ci ho provato Dai ah facciamo ste piastre Non ci vuole nulla Arrivo l'acca arrivo Dai Scala l'acca L'acca scala Vai sulla prossima L'acca scala Vai uno che scenda stabi Stabi Vado io Vado io Vado io E vai in tre In quattro Tutti e in quattro andati mi raccomando No va tranquillo Vai sulla prossima Ti adesso io Marco Stabi vai giù Vai l'acca Cromage Guarda come dormite Non dormite Stavo guardando se scendevo No non devi guardare Cromage Non devi guardare Non me ne frega quello che vuole Faccio occhi chiudi Ormai sono anche memoria Vai Vai l'acca Io seguo stabi Stabi segue Cromage Voi non capisco perché fate quel giro Fai questo giro senza lontana Vai l'acca Mi piace da andare a Cromage Praticamente una piastra rimane attiva Non muore stabi Perché sta già perdendo le piastre E' più veloce adesso tranquillo No no io devo arrivare Sono già illuminati Non vanno giù Non vanno giù Un po' non vanno No Dio Cristo Non vanno giù Non vanno giù Vai subito Non ho fatto Laga 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 Appena senti il rumore Jampa Jampa Abita Cromage Botta fenomenale Mi ha dato quello sniper Jampa Appena vedete dove sta spawn up Dovete già saltare Raga Salta A destra Laga Jampa Laga No Veloci Veloci Cazzo Ce l'ha fatta E perché è l'ultima Ti lasciano 5-6 secondi E l'ultima Ok Ce la facciamo tu Non hai detto S'era arrivati tutti Sia Abbiati no Sì Dovete No Prima non c'erano tutti Basta attivare qua La merda Vabbè raga Tanto lo step dopo Siamo 5 Infatti cavallo Ecco le copole Vai Marco Vai vai Marco Eh Rispondo limitato Eh Perché questa è l'apertura Stabile Del raid Che ti credevi Che fosse uno step Siamo a Marco Raga Nemici Ok Questo Configgi Configgi Loyalist Raga Diciamo Dele ghisti What Quello è una bel bestione Ma tutta roba scasta Questa qua Vedete che ho detto Quare gelido Qui c'erano gli spawn Di cani Bene Raga come Spacchio siete morti Eh ma Focussato Ma focussata Ma che siete scritti In campo aperto Raga Per ucciderli Più coperti Perché mi fanno schifo La domanda è una Dobbiamo solo Sconfiggere i nemici Intanto vediamo Vediamo cosa Elimita i deghisti Occhio in basso a sinistra Se spawna qualche consigliere Qualcuno Oh cristo Oddio Uccidete il coso Con Il culone Grazie Ovviamente spawnerà un miniboss Raga Sti avanti si va Vedi Sto sempre più forte Eh beh Sicuro 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 Non è là ancora vivo Non mi piace Ti guardo Muore Ok Bello Cani Cani dietro Aspettate Belli Ancora ce ne sono Da sopra Guarda la mappa Guarda la mappa Guarda il radar Eh lo so Lo sto vedendo Lo sto vedendo Di là Cromage Non siete messi Marco sei con loro Vai con loro Noi siamo a sinistra Noi tre a sinistra Marco e voi tre adesso Doppio bestione Da me qua Sì ci siamo Cromage Ci siamo Quel danno ragazzi Giù Poi stiamo andando avanti a cosa Eh ho capito Oddio Oddio sono quelli grossi Raga Morti Sì Uno è andato Uno resti Cromage Uno resti Cromage Vado io Vado io Vado io C'è uno forse al centro Raga occhio Sì c'è uno sotto C'è uno sotto Sono morti No c'è uno sotto C'è uno sotto Eccolo qua Sotto di voi Dove è Mardok Ah ancora Mardok Ok Ecco Che è la voce di Kalus Vuoi dimmi che è già un coso Sì questo è uno step Da Elite di Kalus Raga non per dire Ma la voce è quella di Kalus Sì ma c'è Kalus qua Va bene Queste qua sono come le bandiere Mi hai dato un'arma No Kalus Elite Cos'è Dobbiamo andare Un'arma Aspetta che non riesco neanche a raccoglierlo Oddio Come le bandiere Dovete scendere nel buco Aspettate un attimo Che spacco sti 8 shader Li raccolgo What school? Eh sì Ora ci riporta su Ah ok E noi dobbiamo andare là Guardate che mi porta giù Poi vi riporta un po' su E dovrei andare qua Mi sono tipo mezzo glizzato Guarda come cazzo faccio? Eh Stabby suicidati Guarda non mi fa saltare Stabby suicidati ripeto Come faccio a suicidarmi se mi son bugato? Fai slash kill Fai slash kill Fai slash kill Devi salire Eh sono il lupo io Stabby Stabby vai contro un muro Vai contro un muro Vai contro un muro e spalati un rocket Vai contro un muro e spalati un rocket Eh esatto Ok Dai 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 Spala Buona Ora si rianima Ma è plana Marco Cioè ok La planata l'avevo già usata E non posso più Ora dobbiamo aspettare che si resti Stabby E scendo di nuovo giù Raga puliamogli un attimo qua Prima che Aspetta Balliamo un attimo E 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 Guarda 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 No togliamoci perché magari Di sopra Laga c'è il vento non mi fa Stabby C'è il vento è un puttana di sopra Che cosa è sta Laga prendiamo le casse No è se Laga Laga dove stanno in fondo In fondo al corridoio a destra A quanto mi hai droppato l'ingramma? 3.30 3.24 A me quindi 3.30 A livello All'impello che sei adesso Ma dove minchia? Ah ok Wow hai impulsi? No raga ma basta che non sia tutti i labirinti così sto raid che mi fa cagare se no Ah ma Ah è a tempo questa Ah è a tempo E dovetevi Dovetevi andare Oh mio dio Tutto il raid sarà così Mi viene da piangere Bello bello mi piace Allora sicuramente Non è pieno di boss Vediamo 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 Ok ecco qua Ti ripari così Sono un genio Ci sono dei muretti raga neri Non ci puoi stare in tanti però No ma questo è un passaggio ci sono basta che state nel quadrato giallo e via occhio 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 laca ma no mardo bello questo passaggio mi piace pensavo fosse un altro step mi stavo sparando è bello che abbia qualcosa che unisce ogni step bello e simpatico raga dritti sono sicuro è la fatta posso scendere no io gli aspetterei un attimo tutto l'attimo o poi non è scesa sono vivo infatti vivono e dicendo scendi nelle profondità delle leviate all'abisso praticamente stiamo facendo manutenzione praticamente è vedi qui marco che figata come è la camera della pistola un proiettivo per quello di prima sembrava revolvera lì vero non è la pia tipo un proiettivo e qua qua tutti i vicini tutti i vicini io ne ho negrò perché la calcola lì l'alto se si apre così vediamo ma non bisogna attivare qualcosa di là e magari ci sparano fuori che ne sai ma non cercate casi e vabbè la casa c'è la mia casa non lo facciamo mica entro le ragazze quando era ma qualcosa mi piace era un proiettile era un proiettile veramente ci hanno sparato fuori no vabbè no raga aspettate ma io ero morto non so perché ciao raga a livello a livello a livello graffo indietro bisogna giampare bisogna fare qualcosa a livello a livello a livello comunque di cosa devi fare molto superiore ragazzo no no aspettate aspettatemi comunque io sono morto perché sono andato a sbattere contro una stazione infatti ma io sono andato a sbattere ma ora l'ho saltato aspetta aspetta ragazzi appare da quelle carte qua bisogna far qualcosa vediamo se si ferma salta sopra a me le trapassa le lecce raga no 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 allora di guardare quella chiare quelle chiare si raga bisogna bloccarsi su quella non lo sto capendo niente vi giuro sabi vedi che sono tipo delle rosse chiare mettiti il triple jump che è più controllo e salta su quelli da chiari quelli chiari sotto vedi che ce n'è uno che ha una cosa tipo A c'è anche un portale dei vex dove ci sono i portali dei vex raga per intenderci ma non mi ferma non mi butta via ok raga io mi sono formato ah raga wow adesso ho capito avete visto che ci sono i cerchi del vex raga ogni persona deve entrare dentro un cerchio eh io non fai che sono entrato vedrai che è così vedrai che è così sì perché qua adesso mi sa che no raga no 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 sapete perché perché io sono entrato in un cerchio ma poi mi sono mi sono fermato in un coso tipo nessus ok in una parte di nessus non l'hai mica visto quanti cerchi ci sono sì ma ora io so raga che si è chiuso il proiettile raga eh si riapre adesso si riapre ma infatti sono uno due tre no raga io sono arrivato in un punto dove bisogna prendere una pallina ah ah e dove è che stai io sto andando nel vino ecco sono fuori mappa caro vecchio unione di alleati grazie school uno di noi sono un genio io ho entrato nel portale allora ti farei un flow job spezza la barriera io non c'ho più di un cazzo raga l'abbiamo capito è facilissimo è ma per il fuoco basso raga è fattibile è fattibilissimo è fattibile la parte più difficile ora sto cominciando a capire sì vabbè è stato la prima a sinistra marco guarda dove sono io mi guarda scusami qua questa spona sempre quella che non è pronta non è quella dove si fu qua ti stabi allora mi giro con le altre no aspetta qui non hai capito allora la vedi quella a fianco eh quella passa eh quella passa sì raga dai va bene dai partiamo eh ma non mi faccia più raga partiamo vabbè vai via abbiamo capito comunque è facilissimo raga questa sarà solo l'attivazione penso dello step no no attivazione non penso proprio questo è uno step perché dentro c'è il boss oh raga ma con l'out eh marco eh con l'out eh tre viola ah ok perfetto ottimo arrangiatevi allora ti do supporto te ne porto una io marco guardi là te la porto io che tanto a me non serve porti tu quella ok vai stabi noi facciamo pulizia qua vado a prenderla da di qua allora se spawna che se ci servono tre a vuoto bisogna averle qua rapide hop messa chi è che spawna questa parte è che ogni tanto mi tira certi cali di fps Allora, vuoto e due solari da noi Due solari? Ok, ce le abbiamo le palline Vuoto e solare, raga Vuoto e solare Vuoto ne servono ancora Te la porto io a Marco Ho continuato a sparare, non me l'ha fatto Te la porto io a l'altra Vado a prendere un'altra Vado, vado, vado Raga, te ne carico una io E ne carico anche una terza Che a quanto pare ne servono ancora Veloce, eh? Ma no, è un buon timing adesso Allora, da noi c'è una vuoto, ricordo Sì, sì, arrivo Vuoto e solare, sì Fabi, vedi se da Chrome e giù c'è una pallina Che ce l'andiamo a prendere No, non c'è niente Appena è pronta, vai Raga, solare c'è, arco È un'altra solare, stabi Arrivo ad arco, arrivo ad arco Qua non ne vedo le palline Scusi, fermi i nemici, school Sono facciutissimo Eh, stabi, io ci sto provando Ok, vado, vado a prendere a ballare Arco, arco, bravo, sei già qua Perfetto Perfetto Ora tocca a noi, mi sa, eh Sto portando l'altra solare, stabi Ora, raga, tocca a noi Sì, sì, sicuro Chiama, chiama Chrome non ci sente No, ci sente, ci sente Siamo noi, non sentiamo noi Ancora non sono spawnate Da Marco c'è qualcosa, no? No, non c'è nulla Di sicuro ne mancano ancora tre da Marco E tre da noi E sei da noi Sì, quando ne faccio tre Eh, si fa a giri così, insomma Solare da me Arco la faccio io Due arco Due arco e una solare Arriviamo Solare No, cazzo dietro Ok Madonna, quanti cazzo i nemici ho Chrome, mi avrei messo l'altra Me ne serve un'altra d'arco qua Chrome Fatto la solare d'arco Ce n'è un'altra solare No, una Manca una d'arco La prendo ora Ce l'ho Dite se serve una mano Di palline a me Non ne spawnano più Da me è anche fatto Da me è fatto Guardate Sto lato è andato Me ne mancano tre da me Qua E penso tre da Marco Da noi è sgombro La via Quindi Adesso dovrebbero Spallare Serve un altro solare Per caso A me il verore è pulito Ora forse respone Tu vuoi sempre prendermi Ok, vediamo Un arco a me Due arco a me E un vuoto Ok Adesso arrivo Tu, dagli una mano Io pulisco Non caricare da me Che è inutile No, vabbè Carichiamo per sicurezza Eh, vabbè Ma era meglio agli altri No, ma se riesci a prendere Indietro Prendine una No, ma se riesci a restarmi Se no spara la testa Dovresti fare No, ce la faccio Sparo io Sparo io l'arco Dovrei farle tutte e due In teoria Andate Ok Io non ho più palline qua però No, è one shot È one shot Non le trovano One shot Sottissima d'arco Vai giù Oh, bella, bella Non va giù la mia d'arco Si è morto Prendila Ok, mizza il pelo raga Maria che pelo È finito? No, manca l'ultimo giro da Marco Ecco l'anno Chrome e spiazzole subito palline Adesso lo dovrei dire Vuoto Elettro Vuoto Ok, giù a vuoto Arco Vuoto arco È una d'arco Ok Sì, scusa Dul, vai a dare una mano Abbiamo finito noi qua Andiamo Eh, no, aspetta Potrebbe chiamarci la sole No, no, sono finite Sono finite Sono le ultime tre Ok, sono finite Vai a caricare una da loro Manca, vada Vuoto Eh, ma non ce l'ho Proprio palline No, io ce l'ho pronta Deve solo caricarsi Mi serve quella d'arco Arrivo io, arrivo io d'arco Appena si carica La messa Chrome Chrome, prendi le tue Anche tu Una tele per sicurezza Quando si carica E dai, muoviti Dai, 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 dai Eccola Vai Si muove a caricare Vi prego l'arco Vi prego l'arco Eh, si deve un attimo Caricare Ok, ma che solo Quello è lì ad arco Ok, caricato ora Ce l'hai qua, Medu Ce l'hai qua Allora Hai Medu Ti supplico Supplico Medu Ok Ti Ok Aspetta adesso Mina quanti Di nascita Mina contro Troppo, troppo, troppo Troppo, dietro di voi Fatto Wow Ok Ok Oh, attenzione Guanti lunghi Come quanti Mi ha dato Sono nuovi Sono nuovi Sono nuovi Fanno schifo Guardami Ti prego Guardami Guardatemi 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 Come cacchio Fai Guardatemi Il rocket mi ha dato Mi sa Ti Medu Ma guardami Guarda le braccia No, pompa Il pompa Il pompa Mi ha dato Il pompa Braccia e peni Mi ha dato Il pompa Vediamolo Questi comunque sono quelli Con le armi Che mancavano Da calus Raga Il pompa Guarda Questo mancava Da calus Ma si Ma raga Ma con Con il decoro Senza fanno Cagare lo stesso Sì, infatti Sono dei impegni Io le ho infuse Giusto Fammi vedere School Eh, le ho infuse Le ho infuse Raga, non per dire Ma mi sa che stai Sulla parte dopo E Sto robo qui Eh, c'è 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 Questo Ma non sarà mai pieno Capito Uno In meno Ci sarà sempre Perché lo prendi In quel momento Allora, a razza di rincoglionito Allora, se Se ne serve uno Di frizzino a vuoto Due Due sono Due sono liberi Due sono liberi Si usano per sparare Ok, e ti do la giù Porco Dio Se due ne servono Uno è libero Si, ma Io ho sempre preso Quello da libero Ho capito Ma se ora ne servivano Due a vuoto Capisci E ce ne erano tre Capisci che due sparano E uno è vuoto Raga, ho preso E uno è libro Ok, e il libro è vita Eh, allora Cosa è che Il libro è vita Infatti Ah, non so Non mi spiego Allora, facciamo così Io, laca e stabi Spariamo Arco Ah, cos'è che hai detto Scul'arco Arco, sole, vuoto E arco Ok, vado a mettere Arco, sole, vuoto E arco, vuoto Allora Ad arco Ci sono tutti e tre Ok, tutti e tre Ok, io ne piace Una a vuoto Arco, vuoto, sole Facciamo così Spariamo Fissi Io, laca E stabi Stabi prende Sole Io prendo Arco E laca Il vuoto Se dovesse capitare Un altro simbolo No, lo prendi comunque Lo prendi comunque te Laca spara normalmente Io prendo la sfera Tu prendi il vuoto Marco Io prendo la sfera Che faccio meno danno Ok, ok Io ho già preso arco Raga Manco un frizzino ad arco Io ho preso l'arco Già Riempiamo arco Comunque Oh, vabbè basta Foxarmi Boss di merda Mi one shot Puttana la madonna C'è una pallina Ma laca Laca, l'ho capito Però se non lo prendono Dico a te C'è una pallina Dove sono io Cioè Quando volete raga Io ci sono Sto arrivando Allora Allora 3 2 1 Sparate Rift Squill Segeri tarmore Le arpia raga Le arpia Chi mi ha ucciso Le arpia che non ha fatto male Chi si è in partita uccisa Ragazzi Mi ha preso Raga Sparate Cromage E compagni Faccio io Faccio io Presi Pulizia Raga Non ci dovrebbe Un caso di tempo Per farvi Raga Mannaggia Eh, visto Ma è buono il danno Raga Ma è buono Ma finché Ho fatto il coso Mai una volta che ho fatto Io mi sono Di ricordo No ma mai Mai si fanno Quando si mette la barriera Dovete fare le cazzo Di kamikaze Deficienti Ma Squill muore per quello Squill muore anche per quello Squill muore anche per quello Non si fanno mai Io vi kickerei tutti della vita Porca madonna Non si fanno mai le arpie Io le vedo che arrivano da loro E muore Squill Porco dio Ma anche quando che si chiude la barriera Raga Sveglia Non andate perché fare i cazzi vostri La vuoto Si spero Ah no è vero C'è la stun Ci restano Magari qua riusciamo a vederlo Grigio Non è quello qua Guarda Ui Madonna Non ti spostare eh Qua non è andato Andato Andiamo di là Grigio Non ti spostare Andato raga Fatene un po' di danno Per favore Io lo faccio da giù E poi stunnandolo gli si fa danno Eh ancora Dico stunnandolo proprio Gli si fa danno Raga Occhio dove toglie la piazza Ok Allora tu dici Medio che qua Io continuo sempre a prendere anche a solare Se non c'è proprio neanche il danno Dici Tu cambia Prendi vuoto se non c'è solare Capito Ah ok No che prima cosa mi hai detto Prendiamo Io te e Marco fissi Io ruoto pure io Allora arco Vuoto Ancora arco Arco vuoto arco Stabi vieni ad arco E Marco prendo vuoto Ecco in questo caso In questo caso qua raga Vuoto Mettetene più di una Ce ne andiamo a prendere Te le porto già una No prima metti quelle essenziali E dopo le metti in più a vuoto Se ce ne hai già in più la metti Messa una Vado a prendere di la presa Vado a prendere l'arco Vado a prendere Tanto la prendo io da vuoto adesso Ma troppo andate tanto Però magari allo più in gioco Eh io non ne ho Dioca mi sa adesso No due Due è tipo 500 Di quale Ti ho portato la terza ad arco Raga comunque a vuoto c'è Non lo devo prendere io Vai Marco prendila Io ho preso arco E appena si ricarica La prendo qua a vuoto Dioca non ho pesanti Prendi arco Perché ragazzi siete in quattro a vuoto Vedi poi non si fanno le arpie Perché noi abbiamo il coso in mano Voi non fate Siete lì a prenderla a vuoto E ci sono 5 Cosa in mano Quando devi subito farla Non serve che lo prendi in mano prima Dioca anche te Sì ho capito Ma come fai a capirlo Lo fai a capire Vabbè Stabi Prendila che ci siamo Che c'è Marco Stabi io faccio destra Tu fai sinistra Ok Ok Siamo 3 2 1 Sparate Ok Scusami Scusami La prima botta moriamo Ma che è morto Stabi Ma perché ci arrivano le vostre arpie Raga Raga bisogna arrestare l'h Arpie arpie di nuovo Stabi L'ho arrestato L'ho arrestato L'ho arrestato l'h Ok ok Raga le arpie aiuto Ok Siamo tutti vivi Quasi assurdo Sembra quasi un bug Chi sei l'h È un bug L'haga sto scrivendo Eh lo so L'haga Hai fatto uno scudino Scusami Comunque raga Allora Due cose Uno School Lo scudino farò sempre nel stesso punto Perché sto cominciando a incazzarmi veramente tanto Secondo I frizzini Vanno usati tutti raga Quelli extra Li fatti in altre piattaforme Venite in questa qua Perché fanno troppo danno raga Quelli uccidono il boss Non rocket di merda Sì però Rapponti che dobbiamo sparargli Alle coste Partiamo da sinistra E poi a destra Come prima Eh Occhio school Che ti tira una bomba E mori Oh dio Sono tutti qua Che ci incartiamo Quale è andato Quella raga Ah è andato Raga ho finito tutto Tutto Propondiamole basta Parliamo più possibile pesanti raga Eh Lo so Prima le pesanti Perché sennò Non lo buttiamo giù Ho finito tutto di nuovo Anch'io Gli sto tirando di tutto Ti dico di non farò Tirare Ti dico Avete ulti Io ho lo smash Lo faccio con l'arco Poggo lo smash Mettogli Prendete la pallina raga No no Tieni lo smash Tienilo Raga è solare Solare Chromage chiama l'ultimo Solare 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 Ok Andiamo su vuoto A far pulizia C'è andata pure bene raga C'è andata pure da dio Tu hai detto Quando sono gli stessi simboli Anno C'è andata bene perché ora dovremmo essere tutti qua Ma stiamo in tre E raga io non ho pesanti Neanche io Io non ho neanche il frizzino però Non mi stanno continuando Allora raga ci vogliono Ci vogliono Tre solari Tre solari ci vogliono Vi racconto tre solari ci vogliono Che non vedo che mettete tre viola Gabi ci sono tre solari? No due Arrivo qui con la terza raga Qua c'è un'altra che si può mettere sul viola Metteteli sui viola Aiutami a fare queste qua qua Che paghiamo le pesanti Ok uno è sponato già Stabia Lo prendiamo dopo allora Raga le arpie Arpie Stabbi prendi Marco Non prendo niente Ok abbiamo due frizzine extra Hola Prendeteli voi Uno lo prendo io Aspettate Questa qua Buttatela dentro Alla viola Raga prendiamo Raga prendiamo Prendiamo il frizzino Stabbi sono troppo tardi Marco anche te Deve ancora sponare uno Guarda adesso Ok prendiamolo e andiamo Io sparo sopra Marco a destra Stabbia a sinistra Io sparo sopra Marco a destra Stabbia a sinistra Beh raga che c'è Troppo fermi Marco Aspetta che sto down Veloci dai Raga pulizia C'ho un Vex che mi sta sparando Raga Qual è che devo fare io? Destra Marco a destra Stabbia a sinistra Pronti? 3, 2, 1 Via Pulmetti c'è il muretto Messo Mi ha preso la gabbia raga Sparate Sparate la gabbia Sto sparando Sto sparando Buona Buona Buonissima Arpia raga Arpia Arpia Inizia su quelle Prima di tutto A lui Dai non giochiamo Danno c'è Buona Sparategli tutto Mi sa ancora Quanta vita ha sto coso Perché alla fine Ne ha di più? Sì veramente Ha un miliardo di lini Raga Raga Sono i frizzini Ve lo dico Ve lo conti qua sempre Io non ho più cuore gelido Raga le cose Ecco qua Soli Sempre Sempre Ma se Ma Skull continua ad andare Lì in faccia E non si ricorda che ci sono le arpie Impressionante L'ho urlato prima L'ho urlato Penso che il mio cricetto Abbia più cervello Il mio cricetto Il cricetto che non ho A più cervello La schiena Prima destra Poi sinistra I colpi raga Ok Andata quella raga Andata Ok Ok Devo fermare colpi raga Eh siamo in due Raga niente morti Perché con i rest Non so come siamo messi Io non ne ho Quanti rest abbiamo raga Con 10 e 10 Bene Il tuo non lo conto neanche Perché No 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 Non cadere giù Finna di puttana Ok Tutta giù la pesante Non vai qua niente Eh un calzo Non cazzo Non cazzo Non cazzo Non cazzo Non cazzo Non ho pistola d'oro Dove ci sono panini di luce Stai tranquillo Stai tranquillo Bro non faccio danno Ah raga vuoto triplo arco Vuoto triplo arco Inizia a raccogliere energia A vuoto triplo arco Ok vado ad arco Allora metterla Qualcuno che metta già A vuoto per favore Io ho già messo a vuoto Siamo già in tre a vuoto Ho messo l'arca Io e scudo No in realtà Nessuno Ho messo a vuoto Lo sto mettendo io Ho visto l'arca Che stava andando Lo metto io Stai bisogno di sfere Vado 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 Raga raga Sono l'unico che ha messo ad arco Eh per ora si Vabbè si Per ora si Riempiamo il vuoto prima raga Eh no Ok Devi assicurarti Che l'arco sia pieno Prima però Eh già Eh già Qua ci sono già due palline Qua da me a destra Raga Faccio da solo Tutta una piastra Dai Io arrivo a prenderla Marco vieni Che siamo in tre Siamo i cavalieri dell'apocalisse Guarda l'ultimo è là in fondo Bro lo vedi Guarda la faccio io Marco Pulicimi qua Che roba che mi troppi Veloce Sto facendo tutto da solo Un secondo Vai vai veloce Raga 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 La mia mano con questo Puttana Piazzata adesso Ha dato le pesanti Buono Io prendo questa Vado già di là Voi guardatevi le altre due Come prima Stavi io sopra Marco a destra Stavi simile Mi avete fatto Un secondo raga L'ultimo arrivo io Per ultimo M'avete fatto un bel po' di tanti Cromage A questo giro lo metto Lo metto un po' dopo Il coso Sarebbe meglio che lo metti subito Eh ma io voglio prendere il frizzino Ma ho capito che vuoi prendere il frizzino Lo metto subito e prendere il frizzino È meglio così Sinistra Marco a destra Quello vicino Quello vicino qua Prendetevi già quel cavolo di coso voi Eh vai raga Arrivo Aspettate 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 Guarda che viene game over Veloce 3 2 1 Via Entro Prendilo Non lo prendi Sì l'ho preso Sì l'ho preso Ti dicono raga Mi l'ho preso raga Mi l'ho preso Mi l'ho preso Guarda Grigo raga Aiutate Grigo 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 Danno raga Minotauro Occhio che non ci sia anche una fase di stun dopo Le arpia raga Non facciamo wipe su arpia Sì sì Aspetta Aspetta Non ci sono quasi di sparate Fermi fermi Continuate a sparare raga Non si sa male Eccola qua Eccola qua Eccola qua Sparate No Sparate Oddio Cristo Madagno Come on Tronzata Ah beh il segreto è me Oh che Ah sì La vedrete Cos'è Cos'è no Non la vedrete No ancora Non era l'ultima questa Dov'è il drop Raga saltate Che cazzo Saltiamo Stiamo volando What Ma dai Ma veramente Ha riciclato veramente sta schifezza Che finale Che ha aperto la cassa Vabbè Che finale di merda comunque Le braccia Armatura Vedi Usci la pompa L'armatura a 3,30 Oddio è anche figa Come 3,30 Come 3,30 scusami 3,25 più 3,30 Ah Mi manca un solo pezzo E poi sono 3,35 No raga ti dice anche Il nuovo emblema ti dice quante volte le hai fatti in armi Vedi sono queste quelle cane L'ornamento Sì Sono queste Sì comunque raga Potevano evitarselo Il riciclaggio Stabbi Stabbi sono Katarina Stabbi sono Katarina Guarda Guarda queste spalle Oddio Potevano risparmiarsi però Questa è l'armatura Il riciclaggio Il riciclaggio Ma io in fondo perché Per ora mi sa Non fammi Comunque a livello di estetica A livello di estetica è bello A livello di componenti fa cagare A livello di estetica